Sì, grazie, spero che mi sentiate bene. Avevo chiesto, perché in realtà non volevo condividere io la presentazione, ma la volevo far condividere a voi. Comunque in realtà forse... Ecco, sì, sì, bene. Ok, perfetto. Va bene, possiamo anche andare avanti. Questa è la mia mail se qualcuno ha bisogno di poi comunicare con me. Allora, io innanzitutto volevo ringraziare il professor Baldoni perché ha un po' fatto setting the scene, insomma ha un po' definito lo scenario dentro il quale ci troviamo. Persino adesso appunto in questi giorni la Commissione europea ha pubblicato la proposta di un regolamento sull'intelligenza artificiale nella quale identifica quattro livelli di rischio per quanto riguarda gli usi di questi strumenti. e in questo senso diciamo che segnala, anche la Commissione europea segnala che l'uso di queste tecniche di intelligenza artificiale, qualora appunto non sono ben controllate, ben organizzate e ben... è chiarito bene qual è il loro scopo, può presentare delle difficoltà e soprattutto avere degli esiti discriminatori sulle persone che possono essere oggetto della valutazione, del giudizio di questi strumenti. Allora a questo proposito appunto io voglio parlare in particolare di alcune tecniche di intelligenza artificiale che diversamente dall'epoca di Turing tendono ad essere prevalenti in questo momento e sono quelle appunto basate sulla analisi dei dati, come ci ha fatto capire bene il professor Baldoni. In realtà appunto l'intelligenza artificiale può essere top down o bottom up, cioè è possibile imporre delle regole e applicare queste regole ad un insieme che si vuole organizzare oppure, e questo diciamo è la soluzione che è più di successo ultimamente, partire dal basso, cioè analizzare i dati e a partire dalla disponibilità di grandi quantità di dati estrarre dei modelli di comportamento. Questi modelli di comportamento quindi appunto hanno a che fare con questo termine che si chiama machine learning e questi strumenti appunto sono diventati sempre più utilizzati dopo gli anni zero del 2000 per il fatto che tanti dati erano a disposizione e quindi questo diciamo rendeva possibile l'analisi di tutti questi dati. Sì sì, andiamo pure avanti. Quindi pattern recognition. Pattern recognition significa trovare degli schemi di comportamento, di funzionamento di questi dati. e a questo proposito appunto diciamo l'oggetto di queste analisi possono essere, l'ha detto il professore, face recognition, piuttosto che appunto l'analisi del linguaggio, piuttosto che altri sistemi di raccomandazione. Noi siamo familiari con molti strumenti di intelligenza artificiale per quanto riguarda tutti gli strumenti di raccomandazione che utilizziamo. Quindi se noi entriamo dentro Netflix, per esempio, noi vediamo una serie di film o di serie che ci vengono consigliate, ma queste non sono tutte quelle che sono disponibili, sono quelle che Netflix ritiene che siano quelle più interessanti per noi. e Netflix lo fa utilizzando degli algoritmi di intelligenza artificiale estraendo dai nostri comportamenti e dalla categorizzazione dei prodotti multimediali quello che ci potrebbe piacere. Ora là fa delle raccomandazioni, quindi queste raccomandazioni possono essere corrette o scorrette, diciamo meglio o peggio, però il peggio che può succedere è che non troviamo niente che ci interessa e che quindi cambiamo piattaforma oppure decidiamo magari di leggere un bel libro. Quindi non è così grave. Il fatto è che questi strumenti invece sono sempre più utilizzati non solo in contesti di raccomandazione, ma anche là vedremo che possono essere comunque, possono avere degli esiti, degli effetti critici, ma anche in contesti, diciamo, che hanno a che fare con i diritti delle persone. Quindi selezionando per esempio il personale per quanto riguarda un posto di lavoro oppure selezionando chi ha diritto all'accesso alle prestazioni del welfare oppure selezionando gli studenti o valutando gli studenti. E tutte queste cose, persino la Commissione Europea, ha segnalato che possono essere attività ad alto rischio se attribuita all'intelligenza artificiale senza controllo. Il che vuol dire che appunto i fornitori di questi servizi devono esplicitare il metodo che hanno utilizzato, il dataset, il professore ci ha fatto capire che ci sono dei dati particolari, dei dati speciali che sono i dati di training, cioè quei dati che servono al sistema per addestrarsi. Quindi tutto quello che la macchina sa è l'insieme dei dati di training che sono magari taggati da gente che lavora per Mechanical TARC dall'altra parte dell'emisfero e il programma a partire dal quale poi eserciterà la capacità di addestrarsi e poi di riconoscere queste categorie nel mondo reale. Abbiamo visto, sì sì, mi sembra che era, no no, è un po' più indietro, è un po' più indietro, è ancora più indietro, criteri di astrazione, eccolo qua. Ecco, il professore ne aveva già accennato, però volevo soffermarvi un po' su questa questione dell'induzione e anche introdurre quest'altro principio, questo della somiglianza. I criteri sulla base dei quali si esercita questo meccanismo, diciamo, della estrazione di schemi, di regolarità, è basata fondamentalmente su due caratteristiche che queste funzioni possono avere. Uno è questo principio di induzione. Il principio di induzione noi lo utilizziamo per quanto riguarda i numeri. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quello che è successo prima si succederà anche dopo. Quindi, se qualcosa è capitato in passato, se ho comprato 100 barattoli di Nutella nell'ultimo mese, beh, sarò un grande consumatore di Nutella. Quindi si suppone che io continuerò a consumare Nutella. Ok, questo che vuole dire? Vuole dire che il principio di induzione utilizzato in questo senso è un principio di conservazione, cioè tende a replicare il passato. L'altro principio è il principio di somiglianza. Cioè, oggetti, persone, appunto nel caso di Netflix, film simili per qualche motivo, sono associati. Quindi sono categorizzati come appartenenti allo stesso gruppo. Per quanto riguarda i film, voglio dire al massimo si sbaglia. Il problema è quando questa cosa riguarda le persone. Perché che cosa significa associare le persone sulla base della somiglianza? Vuol dire che persone che sono per qualche motivo simili, che ne so, abitano nello stesso quartiere, vengono associate agli stessi comportamenti. Quindi vengono considerate cattivi pagatori. Perché in quel quartiere molte persone non hanno ripagato i loro debiti. Questo però è il principio della discriminazione, diciamo, di impostazione razzista o comunque classista. Cioè, che vuol dire associare le persone sulla base del fatto che si assomigliano per qualche verso. Quindi senza entrare nel dettaglio sul singolo, noi associamo le persone tra di loro. E questo è lo strumento che gli algoritmi di machine learning, e in particolare di pattern recognition, possono utilizzare. E questo è quello che appunto ci fa problema. Andiamo pure avanti, andiamo pure avanti nelle slide. Ecco, ora, perché qual è l'obiettivo di queste previsioni? L'obiettivo, diciamo, di queste inferenze è fare previsioni. Fare previsioni su quello che accadrà in futuro. Il fatto è che questi strumenti di previsione, questi, diciamo, l'esercitare questa previsione che può, in fin dei conti, se io dico, all'80% questa persona è adatta per questo posto di lavoro, beh, non è un gran problema, perché evidentemente tutti noi esercitiamo il giudizio e diciamo, beh, sì, quello mi piace o quello non mi piace. Ma il fatto è che, infilato dentro al sistema dell'intelligenza artificiale, dentro al sistema tecnico, questo giudizio sembra essere una verità oracolare. Quindi, se io dico che all'80% questa persona è adatta per quel posto di lavoro, vuol dire che, non è adatta per quel posto di lavoro, vuol dire che al 20% lo sarà. Non vuole dire che è la verità rivelata e che non c'è possibilità di sbagliare se non si assume questa persona. Il fatto è che, ovviamente, tutti i giudizi sono soggettivi, ma nel caso che questi giudizi vengano esercitati dalle persone, noi sappiamo che sono soggettivi e quindi sappiamo che hanno un grado di affidabilità, ma possiamo anche sbagliare. E questa cosa è particolarmente pesante nei contesti nei quali non c'è una, diciamo, il risultato non è esplicitamente definito. Noi siamo abituati a vedere questi strumenti in azione, per esempio nel caso dei giochi, gli scacchi, il Go, oppure anche dei giochi elettronici. In quei casi, però, è molto chiaro qual è la funzione risultato cioè noi sappiamo bene a che cosa dobbiamo addestrare l'algoritmo. Dobbiamo addestrarlo a vincere la partita. Quando invece noi ci troviamo in situazioni di vita reale, questa capacità di addestramento e di riconoscimento dell'obiettivo è molto più sfumata, perché nel caso della vita reale noi non sappiamo chi è la persona giusta per quel posto di lavoro, non sappiamo com'è definire quella funzione. E quindi anche questo entra dentro all'interpretazione che sta scritta dentro al codice, ma che in realtà è esercitata da chi quel codice lo scrive, anche se magari non lo sa. Andiamo pure avanti e vediamo alcuni esempi concreti nei quali appunto questa cosa si verifica. Si verifica, diciamo, l'uso discriminatorio di questi giudizi che però non viene esplicitato. Amazon aveva cercato di trovare uno strumento per automatizzare la ricerca di personale. Amazon ha bisogno di molto personale, ma ancora di più gli vengono proposti curricula, cioè le persone si propongono per lavorare per Amazon. Quindi voleva un sistema per automatizzare l'analisi di questi curricula e selezionare e shortlistare quelli che poi andavano per l'interview, che poi sarebbero eventualmente gli unici soli che avrebbero potuto essere assunti dentro Amazon. Prima ancora che questo sistema andasse in funzione, si sono accorti che questo sistema era discriminatorio nei confronti delle donne. Perché? Perché il sistema era addestrato sui dati dei dipendenti di Amazon. I dipendenti di Amazon sono molto frequentemente maschi. Quindi che cosa succedeva? Siccome se non si fa attenzione, cioè in realtà l'algoritmo tende a astrarre le caratteristiche dai dati, ok? Se i dati che gli vengono presentati come training, cioè quelli delle persone che attualmente lavoravano dentro ad Amazon, sono per lo 90% maschi, l'algoritmo estrarrà l'informazione che per lavorare per Amazon bisogna essere maschi. Quindi, siccome solo il 10% erano donne, nello shortlistare di curricula eliminava direttamente le donne. Vedete come funziona? Questo è un principio, diciamo, di addestramento che è in azione. E vediamo che, appunto, è molto facile che abbia delle conseguenze discriminatorie. In questo caso, appunto, l'algoritmo non è mai entrato in funzione perché se ne sono accorti prima e c'è stata una grande sollevazione intorno a questo. Però in realtà ci sono algoritmi che sono in funzione e che esercitano questa pratica. Adesso io ho preso l'esempio perché mi hanno chiesto di fare questo, cioè come l'algoritmo possa discriminare rispetto al genere, ma in realtà ci sono anche tanti altri livelli di discriminazione che si potrebbero studiare e mostrare. Il caso del traduttore di Google, il professore Peron prima ha parlato di GDP3 che è appunto il sistema più avanzato per l'analisi testuale che è, diciamo, di Microsoft, ma anche Google ne ha uno. E questo sistema, quando traduce da una lingua neutra, cioè nella quale, per esempio, le parole non sono identificate attraverso il genere, per esempio l'inglese rispetta l'italiano, cioè se io dico nurse, infermiere, posso dire maschio o femmina. Invece in italiano, automaticamente, il traduttore di Google traduce l'infermiera. Quindi noi non ci sono donne storiche, non ci sono presidenti, non ci sono soldati, non ci sono donne dottore, mentre la qualifica di infermiera riguarda solo le donne. Quindi, perché? Perché frequentemente noi abbiamo che questi lavori sono più fatti da donne che da uomini. Siccome è statistico l'approccio alla traduzione da parte degli strumenti automatici per l'analisi del linguaggio, questo è il risultato. Andiamo avanti. Cioè, brevemente vi voglio far vedere, scusate, sono in ritardo? Devo chiudere? Perché se no passo direttamente alle conclusioni. perché in realtà questo è il caso di Joy Bulamwini, lei ha dimostrato che per esempio nel caso del face recognition le donne nere non venivano riconosciute come donne dal sistema, perché nell'analisi dei dati non c'erano abbastanza donne nere. E voglio farvi vedere, andiamo avanti, mi sono divertita ieri, visto che appunto il corpo docente è prettamente femminile così e poi appunto magari non tutti, ma insomma alcuni di noi sono già in età rilevante per la menopausa. Mi sono divertita, questo appunto è nel caso della query suggestion di Google, sapete, un algoritmo che suggerisce quando voi scrivete, cominciate a scrivere la richiesta sulla query su Google, quello vi suggerisce a che cosa associarlo. Allora, se voi scrivete menopausa E su Google in italiano, vi esce questa lista, adesso non so se la vedete bene, comunque pressione alta, dolori alle ossa, dolori alle gambe, urine malodoranti, mal di testa, gravidanza, aumento di peso, colesterolo, stitichezza, odore urina. Ecco, questa è l'associazione, della raccomandazione, dell'associazione che Google vi fa quando voi scrivete menopausa dentro alla query. Quindi, in realtà, questa raccomandazione è basata sul fatto di associare tutti i sintomi negativi alla menopausa, che non è la realtà, è soltanto, diciamo, la frequenza con la quale queste parole sono associate. Però, il fatto è che questo orienta, orienta la percezione delle persone. E vediamo ancora un'altra slide, questa, andiamo avanti, per quanto riguarda invece l'uso della raccomandazione nel caso del video, nel caso delle immagini. Ecco, questo è quello che si vede se noi scriviamo Latina Girls, cioè tutte donne scosciate che sembrano essere pronte ad offrirsi. Ora, Latina Girls saranno anche scienziate, saranno di ogni genere, però, la rappresentazione che ne dà Google Image quando voi fate la richiesta, è di questo genere. E c'è un libro molto interessante che si chiama Algorithms of Oppression che mostra come questi algoritmi per la raccomandazione tendano a prediligere un certo tipo di rappresentazione e quindi di ipostatizzare quei gruppi etnici e di genere dentro a quella, a quel cliché che non corrisponde alla realtà. Andiamo pure avanti alle ultime slide, così chiudo perché non voglio fare troppo tardi, credo di avere già sforato abbondantemente. Andiamo avanti, 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 solo alle ultime slide. Quello che voglio dire è che in realtà questi strumenti tecnologici sono degli strumenti che hanno a che fare con i sistemi di potere e non hanno nessuna neutralità nell'esercitare il giudizio, quindi dipende da come sono fatti i dati, dipende da come sono scritti gli algoritmi se sono più o meno utili per supportare la nostra presa di decisione. Li gestiscono imprese private che tendono a realizzare meccanismi di standardizzazione oscuro quali siano i loro obiettivi e cosa venga considerato da loro un successo. Non sappiamo come lavorano per pulire i dati, ma hanno bisogno di dati che sono puliti per poterci lavorare sopra, per poterli addestrare, per poter comprendere il senso e comunque il sistema di matematizzazione che viene usato per rappresentare i dati resta un sistema di interpretazione. è... grazie